Un anno nel corso del quale non sono mancati momenti di difficoltà, ma è proprio nei periodi più difficili, come più volte dimostrato in passato, che viene fuori la forza e l'unione della comunità andriese. Con queste parole il sindaco di Andria, Nicola Giorgino, ha tracciato un bilancio del 2017. Lo ha fatto nel corso del consueto scambio di auguri in vista delle festività, avvenuto questa mattina nella sala consigliare di Palazzo di Città. La cerimonia si è aperta con il coro dei bambini della Scuola Verdi, che hanno intonato alcuni dei brani tipici della tradizione natalizia. Poi il saluto istituzionale alla cittadinanza ed in particolare ai dipendenti comunali collocati in quiescenza. Il momento buono per un consuntivo dell'anno che sta per volgere al termine. Un anno, come al solito, faticoso, travagliato per tutte le vicissitudini che ne accompagnano la trasformazione della società a livello generale, che hanno gli effetti inevitabilmente nelle dinamiche quotidiane di una comunità e di una città, ma allo stesso tempo ho notato grande forza e grande coraggio da parte della comunità e di tutti i nostri concittadini nel sapere affrontare le difficoltà quotidiane attraverso quello spirito di sacrificio e di abblengazione che ne contraddistingue un po' il DNA dei cittadini andriesi. Per questo credo che comunque si siano anche poste le basi per ulteriori azioni di rilancio della nostra comunità. L'augurio che voglio fare ai cittadini andriesi è di chiaramente non arrendersi mai, di sempre con grande sacrificio, con onestà, lealtà e soprattutto con grande abnegazione di proseguire nel percorso che hanno intrapreso da diverso tempo, che ha portato tutti quanti ad ottenere dei risultati e credo che nonostante le difficoltà attraverso il recupero dei valori veri e dei valori a cui ciascuno di noi, l'essere umano, si deve ispirare, riuscire a superare anche questi momenti e proiettarsi in una dimensione futura. Tanti nuovi impegni in programma nel nuovo anno. È un auspicio, quello alla distensione, anche a livello politico, per un 2018 che possa mettere da parte malumori e dissidi, come quelli tra la maggioranza e la Presidente del Consiglio Comunale, Laura Di Pilato. Sono un fautore dell'incontro e del dialogo e del confronto sempre e comunque, non solo per convenienza ma per convinzione. Le cose si fanno per convinzione e mai per convenienza e credo che questo sia senz'altro un auspicio che va perseguito per tutti, ma credo che la cosa non rivesta veramente carattere di una rilevanza tale da dover assumere a una dimensione di carattere generale, assolutamente. Siamo in una situazione di assoluta tranquillità e sotto questo profilo proseguiamo nella direzione intrapresa. Alla cerimonia ha preso parte anche quest'anno il Vescovo della Diocesi di Andria, Monsignor Luigi Mansi, che è ricordato come il Santo Natale rappresenta un momento di grande vicinanza ai valori cristiani e della famiglia, portatore di un messaggio di pace, serenità e speranza. Fare Natale significa accogliere il Signore. È inutile che ci prendiamo in giro dandoci auguri di Buon Natale generici che poi non si sa bene a cosa corrispondono. Fare Natale è vivere il Natale nel suo significato più profondo, accogliere il Signore nella nostra vita, sicuri che Lui vuole il nostro bene, vuole camminare con noi e vuole renderci felici, non altro. E dunque questo è il messaggio che mi sento di lanciare a tutti, con grande amore, e con grande gioia, che veramente accogliendo il Signore possiamo ritrovare tutti la gioia vera del vivere e del guardare al futuro. Auguri a tutti.